eccoci qui come state ben ritrovati un saluto a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto di lasciare un bel like iscrivetevi da questa parte attivate numerosi la campanella mi raccomando non solo un'altra call to action qui sotto il mio canale personale iscrivetevi numerosi arriviamo presto a 30.000 iscritti e poi seguiteci su instagram la nuova pagina con il coordinamento di davide che con la sua squadra racconta con anche miei reel notizie che a volte qui non raccontiamo e quindi seguiteci anche lì da non perdere iscrivetevi alla pagina instagram qui sotto c'è il link mi raccomando fatelo numerosissimi rispondo alle vostre domande e poi parliamo di una notizia che ha delle incredibili molto curiosa di un possibile ritorno al minan ecco vediamo sarebbe clamoroso intanto rispondo a roberto che dice è nata davvero sfortunata per calo l'uspero davvero possa ritornare più forte di prima sì alla fine avrà giocato ha giocato oggi circa 3-4 partite considerando i minuti un gran peccato molto dispiaciuto per lui è nata andata buttata non per colpa sua ovviamente ricordiamo che il primo infortunio col tendine c'è non responsabilità dello staff sul secondo assolutamente no detto questo vediamo cosa succede io come dicevo nelle scorse ore non lo venderei non sarebbe strategico vendere un giocatore oggi quando la valutazione è più bassa perché arriva da un anno di inattività ciacca tra ore è stato dato in prestito con quale contratto ma il club può riscattarlo però la cifra è importante non credo che venga riscattato tra l'altro mi apri anche una finestra su tra ore perché effettivamente non lo sto seguendo nel palermo volevo vedere un po come era andato fino a questo momento dopo aver segnato ricordiamo nel milan ha fatto sei partite in serie b senza gole assi in totale appena 144 minuti quindi è come se avesse giocato una partita e mezzo credo che tornerà alla base in estate con però un'esperienza diciamo formativa in più e poi se come sembra giro e jovic andranno via chi sono il titolare il vice che possono arrivare scrive marco questo è un bel tema allora in questo momento l'obiettivo numero uno è joshua zirze giocatore del bologna confermiamo contatti il minan che sta andando avanti e ibra che sembra sposare questa idea però c'è anche l'alternativa benjamin sesco sulle riserve attenzione veniva fatto il nome poi di simaschi del fenerba c'è qualcuno lo considera punta a me sembra più un trequartista come alternativa vedremo anche con che modulo il milan giocherà però l'obiettivo numero uno a oggi si chiama joshua zirze e poi ci serve un terzino adesso urgente un numero 9 devono essere bravi a trovare un centrocampista che sappia fare interdizione come si chiama il sito per acquistare i biglietti si chiama reseglio a questo proposito ragazzi vi ricordo di andare su reseglio.it e per quanto riguarda invece il terzino destro penso anch'io che nessatelmina debba fare quel tipo di operazione florenzi avrà un anno in più calabria secondo me può essere migliorabile come performance ci servirebbe un teo della fascia destra quindi secondo me quello è l'obiettivo e so anche che il milan sta guardando rispetto a quella posizione il 9 abbiamo detto sul centrocampista che sappia fare interdizione sicuramente è un altro obiettivo che sicuramente verrà realizzato la cosa che più vorrei sapere la situazione su cittadini arabi ancora pronti ad acquistare o no il 31 marzo è vicino dice luca si 31 marzo però non è una data che o entro quella data o nulla diciamo che loro hanno l'esclusiva fino a quella data dopodiché possono presentare un'offerta concreta anche ad aprile quindi non per forza finisce tutto entro il 31 marzo quindi entro una decina di giorni si sta andando avanti il fatto stesso che si stanno avanti su san donato ci fa capire che stanno andando avanti da quella parte la mia fonte mi dice che si sta procedendo seppur sia una fase molto importante e pare che non siano al momento scossi dalla dall'indagine sul milan non solo mi è stato confermato che c'è una persona incaricata da questo gruppo arabo che segue il dossier sullo stadio che poi è l'asset fondamentale poi che porta anche gli arabi a investire che dovrebbe essere finanziato poi se di proprietà san donato proprio da questo prossimo investitore arabo usa potrebbe andare in prestito la prossima stagione è un giocatore che potenziale ma non è ancora pronto per il milan dice l'amico no secondo me non va in prestito avrà 21 anni bisogna cercare di dargli un po più di spazio di collocarlo in un ruolo specifico abbiamo preso puliti per 20 milioni quanto vale oggi dopo una stagione top centrocampista difensivo per la prossima stagione c'è qualche nome allora è stato fatto il nome di amrabat come occasione perché torna alla fiorentina lunati non lo riscatta ma al momento non c'è nulla di più che qualche voce poi pulisic per 20 secondo me pulisic oggi vale almeno 45 ma spero tanto che resti e sono sicuro che resti nella malaugurata ipotesi che gli arabi non subentrassero al mercato della prossima stagione lo farebbe ibra sì ma attenzione se entrano con la minoranza lo fa comunque ibra se entrano con la maggioranza e piazzano i loro uomini non lo fa ibra dei tre big sono quattro ma pulisic non si tocca chi sacrificherei io meniam per cifra non inferiore 70 80 milioni la pena su acerbi deve essere esemplare assolutamente io a malincuore qualche tempo fa avevo fatto un sondaggio dicendo ma voi chi sacrifichereste mi aveva sorpreso le votazioni su menian poco su teo via di mezzo leao e io dico che mi avete convinto quindi anche voi convincete il sottoscritto nel dire che probabilmente a malincuore molto malincuore io sacrificherei menian io vedrei menian perché è più sostenibile di un teo di un leao cosa ne pensi claudio l'ho appena detto hai ragione colorosa fatta per il 433 te vorresti contro lo stesso andresti a prendere un mister che fa quel tipo di gioco grazie per i complimenti io vorrei comunque conte vorrei comunque conte si aprì il cuore qual è la tua sensazione sul prossimo allenatore per me resta pioli con o senza vittoria in europa league allora apro il cuore come vi dicevo vi ho dato qualche indicazione qualche informazione negli ultimi giorni una fonte molto autorevole vicino al milan mi dice guarda che la quotazione di pioli ci sono tutte quindi potrebbe rimanere pioli e conoscendo la persona non credo che non mi sia stata detta per placare certe voci su pioli credo che sia stato sincero è una partita che si sta giocando faccio fatica bisogna vedere anche come va avanti il derby lo vinci o lo perdi o lo pareggi in europa league vai fino in fondo oppure finisci prima ci sono diverse variabili a oggi però direi che siamo a un 45 conferma più agli 55 si cambia qualche settimana fa avrei detto percentuali sicuramente diverse poi 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 perché siamo obbligati a vendere un big all'anno mentre la seconda squadra di milano non vende nessuno così facendo non li supereremo mai in realtà beh anche loro hanno venduto e sostituiscono onana poteva essere considerato un big in precedenza lukaku vedremo cosa fanno quest'estate però sono d'accordo con te e ricordo anche un messaggio che arrivava dalla proprietà eliot veicolato da maldini dopo qualche anno che saremo in pianta stabile in champions potremo permetterci anche noi un top player qui non solo non arriva il top player ma eventualmente li cediamo è questione di ambizione evidentemente è questione di ambizione però spero tanto che questa volta si possa confermare tutti e non dover sostituire i giocatori più forti poi pioli ormai ha finito dice massimo devo decidere poche cose in dirigenza prendi conto allora cedi leao e megnane prendi due punte uno zirxe di silvestre eccetera oppure prendi tiago motta e allora vendi solo megnane prendi comunque zirxe un'altra punta il cambio per teo e il centrocampista aggiungo io non è che la dirigenza ha ritenuto l'orario di tonali parecolo di ben nasser e tomori quindi giocatori forti non big come teo leao e megnane magari ci facciamo tanti problemi per nulla l'offerta è rinunciabile però a differenza magari di altri il problema su megnane e su teo hernandez è la scadenza del contratto questo è il vero problema se arrivasse un che sì che tieni fuori tra ben nasser e reinders adesso vi parlo di questo possibile ritorno che non è che sì allora ma io è una bella domanda gli alternerei ben nasser e reinders io penso che con conte avremmo già potuto vincere quest'anno lo scudetto della seconda stella avrebbe migliorato tanti i nostri giocatori data la mentalità giusta e vincente cosa ne pensi sono assolutamente d'accordo con te queste voci della possibile conferma di pelli mi fanno paura immagina cosa succederebbe l'anno prossimo al primo infortunio non ci voglio neanche pensare hai stra ragione su questo tema coinvolgerò diverse persone che conoscete prossimamente se entro marzo non ci fosse l'ingresso degli arabi in società poiché serviva un buon mercato rafforzativo non futuribile ma non cedendo big più nuovo tecnico superiore a pioli gli arabi potrebbero arrivare in estate ma l'ho ripetuto si è creato un equivoco il 31 marzo non è una deadline è una data per cui c'è questa esclusiva ma non è che devi fare l'offerta entro il 31 marzo la situazione può essere come vi raccontavo anche benissimo successiva magari senza arrivare all'estate anche se è possibile pure quello però credo che i tempi siano più stretti più corti eventuale cessione del milano adesso a fine o a fine stagione se sia chi ma in questo momento siamo più sulla minoranza propedeutica però alla proprietà alla maggioranza nel giro di magari un anno un anno e mezzo dipendente dal discorso stadio gli arabi sono venuti incontro a cardinale e viceversa diciamo che si stanno vedendo incontro a vicenda hai informazioni sull'arrivo di un possibile centrocapista di rottura arriverà sicuramente ma non ho al momento il nome altrimenti ve lo darei ecco qualcuno propone oiberg giocatore molto interessante che tra l'altro era stato vicino anche alla juventus poi non se ha fatto nulla pier emilio oiberg andiamo a vedere insieme le caratteristiche scadenza con il totena 2025 28 anni danese mediano alto 185 quest'anno ha fatto 27 presenze ne ha 73 con 7 gol in con la danimarca potrebbe essere un'occasione di mercato vi piacerebbe oppure no a me non dispiacerebbe ricordo anche che ibra vuole cercare sul mercato la cattiveria che manca un po' mediamente a questa squadra grazie poi l'altro amico una domanda secca secondo te ciao alla stoffa per diventare un perno della difesa del milan io purtroppo neanche nel suo primo nel suo prime riuscivo a vederci un top futuro secondo me sono sincero va lavorato però ha delle caratteristiche importanti innanzitutto ricordiamo che appena 22 anni le farà 23 ad agosto è alto 1 94 quindi ha una statura importante molto bravo sulle palle alte un fisico importante quest'anno sta facendo obiettivamente male ma spesso è stato messo nelle condizioni di fare male io invece dopo due o tre partite ci vedevo quella cosa lì dicevo questo davvero forte quest'anno non lo vedo ma il potenziale rimane quindi secondo me può essere assolutamente un big ricordiamo ripeto che ha 22 anni e può arrivare dai io io punto molto anche se può essere un popolare oggi visto il rendimento su malic ciao l'articolo della gazzetta imbarazzante a dir poco quale ce ne sono tantissimi imbarazzanti purtroppo davvero vedo due pesi due misure forse ti riferisci a quello in cui si davano le colpe a one jesus di gian carrodotto oppure l'home page oppure le prime pagine davvero vabbè mi fermo qui non voglio parlare dei colleghi anche perché nella gazzetta ci sono colleghi molto bravi e preparati però c'è una linea editoriale che spesso fa discutere detto questo chi può tornare al milan in discrezione clamorosa o meglio scenario clamoroso perché in turchia sta succedendo un po di tutto già c'erano stati dei problemi in precedenza negli scorsi giorni i giocatori del fenerbahce hanno subito un'aggressione nel match contro il trabison sport e attenzione perché il fenerbahce dichiarato dallo stesso presidente è pronto a ritirare la squadra in campionato sono giorni decisivi è pronto a ritirare la squadra con ovviamente la possibilità che venga poi mandato in nella serie beturca venga retrocesso voi direte perché che ci frega noi e no ci frega sì perché crunic il nostro crunic è andato al fenerbahce in prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo all'aggiungimento di determinate condizioni molto facili ecco tra queste c'era però anche la salvezza cosa ha detto presidente in un'auto ufficiale valutazione valutiamo le azioni da intraprendere compreso il ritiro della nostra squadra di calcio sulla base degli eventi caduti nella partita della superlega è stata davvero una scena pietosa ecco nel dettaglio l'obbligo era condizionato alla permanenza del fenerbahce nella massima serie quindi dovessero decidere di ritirare la squadra e sembra non soltanto una provocazione sembra davvero qualcosa che si può realizzare perché c'erano già stati dei problemi per il fenerbahce in un campionato molto particolare o definirei così in quel caso crunic non verrebbe riscattato e tornerebbe al minan non sarebbe tanto un danno economico perché comunque alla fine crunic è andato al fenerbahce per una cifra pattuita molto bassa rispetto a quella che si poteva incassare in estate sarebbe curioso però ritrovarsi qui un giocatore e doverlo piazzare a un anno dalla scadenza per la scadenza 2025 a quel punto con difficoltà per via dello stipendio e rischio magari di rimetterci ulteriormente vediamo un occhio un orecchio tutti alla turchia perché comunque il destino di tanti anche geco bonucci ma nel nostro caso di crunic è legato a questa vicenda il presidente del fenerbahce sembra fare sul serio in quel caso tornerebbe al minan non ha la scadenza dovresti regalarlo o magari partecipare pure all'ingaggio quindi un danno economico sicuramente ci sarebbe sarebbe curioso sarebbe incredibile cioè crunic tanto chiacchierato dovevi cederlo lo tieni va via gennaio però ti torna per una situazione del genere sarebbe davvero una sfortuna clamorosa ditemi che ne pensate di tutto ripeto un uomo degli arabi sta seguendo il dossier stadio si va avanti per quanto riguarda il primo obiettivo per l'attacco è joshua zirze c'è tanta voglia di conte me ne rendo conto non da parte di tutti do ripeto 55 45 per quanto riguarda conferma di pioli e l'arrivo di nuovo allenatore qui c'è una fetta sicuramente importante per conte e vediamo se c'è questo ritorno incredibile di crunic speriamo tanto di no commentate lasciate un like iscrivetevi da questa parte seguiteci anche su instagram qui sotto c'è il link vi aspettiamo anche lì grazie